la rassegna stampa è stata offerta da i sapori del vallo l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno, ben ritrovati alla rassegna stampa di questo martedì 27 novembre una rassegna stampa che apriamo leggendo le prime pagine del quotidiano Cinedicola e partiamo dal mattino di Napoli in primo piano la manovra più investimenti apertura alle richieste dell'Unione Europea da reddito e pensioni fondi destinati alla crescita Draghi, il debito dell'Italia ha un rischio per l'euro si deve trattare, cala lo spread intanto il debito del comune ogni napoletano dovrà pagare 1700 euro fino al 2044 a centropagina la fotonotizia dedicata all'ultimo saluto all'ultimo imperatore la morte del regista vincitore di nove Oscar tornatore i suoi film trasgressivi nel cinema a bagheria Veltroni quando i leader del PC bocciarono 900 Bernardo Bertolucci era un creatore visionario un brutto male lo ha stroncato all'alba di ieri aveva 77 anni il caso è, torniamo sulla politica di papà Di Maio nella ditta di famiglia altri tre operai in nero scoperta anche una costruzione fantasma e una cartella equitaria da 172 mila euro il documento al terzo valico secretato da Toninelli poi ancora in taglio basso la politica internazionale Ucraina-Russia i venti di guerra che vanno fermati infine per la scienza le gemelline cinesi immuni all'AIDS e il doping del DNA c'è spazio anche per lo sport la vergogna corrianti Napoli linea dura della Federcalcio curva Juventus chiusa questa è l'apertura del mattino restiamo subito sul mattino e allora andiamo a vedere come cambia la manovra economica alla luce delle richieste dell'Unione Europea per gli investimenti 4 miliardi dai paletti sul reddito e pensioni risparmi da quota 100 e dallo slittamento dell'atteso sussidio ma i saldi non cambiano la finanziaria e sempre da 37 miliardi di euro questa la situazione andiamo a leggere il governo punta a spostare le minori spese delle due riforme simbolo su voci fuori dal deficit sul tavolo resta la proposta Siri di trasformare l'aiuto ai bisognosi in decontribuzione per le imprese dissesto idrogeologico e reti ferroviarie il governo riscopre le grandi opere Conte annuncia un progetto aggiuntivo intorno ai 15 miliardi codice degli appalti in via di riscrittura lasciamo le prime pagine di primo piano e andiamo ancora invece sulla prima pagina del mattino di Salerno si parla dell'aeroporto una repertura c'è l'ira degli industriali l'assemblea di Confindustria con il leader nazionale Boccia regole coercitive niente crescita il presidente preteva all'attacco il governo allunga solo i tempi non la pista intanto De Luca avverte sanità e reddito ignoranza attiva alla guida del paese la scuola maestre diplomate c'è il dietrofront revocati i 34 licenziamenti non c'era inferiore caos raccolta rifiuti parte la stretta ora i rifiuti stoccati in casa a Ponte Cagnano bar e ristorante scoperte e rubare l'energia elettrica raffica di denunce ruota e albero con il tunnel ecco la scena sotto le luci conferme novità della Kermess natalizia il prof e la lun minorenne condanna per abusi sessuali lui sessantenne lei diciassettenne ma la love story non è mai finita infine insegue minaccia la sua ex in auto trapano e mazze da baseball per lo sport salernitana le prime non scappano ora serve uno sprint per sperare e guardare in alto questa è la prima pagina del mattino di Salerno ora ci spostiamo sull'apertura della città aeroporto il governo ci faccia volare il presidente di confindustria boccia lo scalo salernitano è fondamentale per l'intero mezzogiorno al Verdi convention sull'economia De Luca a Tria la manovra rischia di affossare il sud in taglio alto l'intervista all'ex PM in Groia e all'omicidio vassallo ora parto con le mie indagini scafati estorsioni e droga chieste pene severe per il clan matrone sapri e polla SOS punti nascita ecco il nuovo piano Salerno Movida l'assessore riaccende la musica live poi ancora poste i borghi salvati dal postmat si cambia nei piccoli comuni politica e offese cartolano querela sala consiglina non c'era inferiore a processi sovrapposti e caos in tribunale a Ponte Cagnano rubavano l'energia per i locali nei guai baristi e ristoranti cava dei tirenici una voragine sotto la frana chiusa la strada ennesimo caso di stalking perseguitava la sua ex consigliere finisce in cella poi ancora l'iniziativa 26 croci per ricordare l'opera dedicata alle nigeriane arrivate morte a Salerno questa era l'apertura della città ora ci spostiamo sulle cronache del Salernitano in primo piano Lega arrestato consigliere il romano Massimo Cimini bloccato per stalking nei confronti di una Salernitana è stato arrestato già denunciato lui si difende siamo stati in albergo due settimane fa era alla municipalizzata di Roma agli stati generali di Confindustria De Luca ruba la scena e attacca i 5 stelle appello di boccia al governo fate l'aeroporto poi ancora Salerno delitto vassallo in groia in procura faremo indagini difensive scafati stangate al clan del genero di Matrone chiesti 57 anni di carcere per buonocore ai suoi complici volevano prendere il posto di Loreto Ridosso e dei Cesarano Pagani superano 8 piogge di milioni con il 5 al Macumbar caccia al fortunato vincitore questa l'apertura di Le Cronache chiudiamo la nostra carrellata di prime pagine andando a leggere l'apertura del Roma il quotidiano della Basilicata Sanitopoli il devieto di dimora per Pittella resta la Cassazione annulla la decisione del riesame ma non entra nel merito il gladiatore rimane sospeso per effetto della Severino il tribunale del riesame ora dovrà tecnicamente meglio motivare la sua decisione le istituzioni intanto snobbano l'università della Basilicata l'inanigulazione dell'anno accademico tranne Sant'Arsiero solo le seconde linee duro sfogo della rettrice sole gli atenei sono mortificati poi ancora l'intervista del Roma non c'è sviluppo senza diritti l'indizio per la segreteria nazionale della CGL a 360 gradi sul mondo del lavoro Sasso di Castalda il sindaco Tuona il centro d'accoglienza illegale a Mendolaro scoperchi il business lucano dei migranti potenza Africa Shop tropperisse nel negozio etnico di via Mazzini il questore lo chiude dopo ultimi scontri a rienterne Mazzio con appello alle forze politiche per la risoluzione dei problemi meridionali poi ancora lo sport premio fair play Francavilla Picerno è stato il derby della correttezza dentro il campo e sugli spalti ha vinto lo sport in Serie C infine il Matera è pronto ad affrontare la favorita Catania in bimbo sprone suoi serve la fame di vittorie questa era l'apertura del Roma con la quale chiudiamo la prima parte della nostra rassegna stampa ci vediamo subito dopo la pubblicità per la seconda parte seconda parte della rassegna stampa di questo martedì 27 novembre una seconda parte che ci porta a leggere le pagine interne dei quotidiani oggi in edicola e partiamo dalla morte del maestro Bertolucci l'addio a Bertolucci scandaloso visionario la scomparsa del regista il maestro da nove Oscar aveva 77 anni da Pasolini a Godard alla fama mondiale un film mai girato su Gesualdo da Venosa un feticcio napoletano a cui penso da anni la dedica del 2011 dopo il premio Cann agli italiani che hanno ancora voglia di protestare e indignarsi su di lui ha parlato anche un altro importante regista Ospetec che dice genio assoluto uomo di grande coraggio mi meravigliavo che un autore del suo calibro fosse così partecipe del lavoro dei colleghi la camera ardente sarà allestita in Campidoglio aveva 77 anni da tempo era costretto alla sedia a rotelle per i posti di un intervento alla schiena mal riuscito ma il coraggio di vivere anche la gioia fanciullesca di vivere dopo l'iniziale dispedirazione non gli erano mai venuti meno e la descrizione fatta da Titta Fiore nel pezzo dedicato quest'oggi alla scomparsa del maestro uno dei più grandi del cinema italiano lasciamo il ricordo del maestro Bertolucci e torniamo più vicino a casa nostra andando a sfogliare le pagine di cronaca locale proposte quest'oggi dal mattino e la cronaca ci porta subito a Ponte Cagnano Faiano la operazione condotta dalla guardia di finanza di Salerno ristorante bar ladri di energia scoperte denunciati furbetti del contatore due locali sono a Rovella buco da 160 mila euro collegamenti abusivi il sistema delle calamite l'inchiesta della finanza l'accusa e furto aggravato a battipaglia i banditi invece sfondano la porta con il palo presi tentano di svaliggiare una casa a spinetta il proprietario vede la scena sul telefonino e allerta la polizia arrestati due romeni a campagna invece tassi usurai fino al 400% in 5 persone finiscono a processo a presentare le vittime alle vittime ai Petrizio fu Antonio Bosco la coppia per due diversi prestiti uno da 30 mila euro uno da 18 nel primo caso il denaro gli fu dato in 4 tranche e interessi che comunque variavano dai 1150 ai 1300 euro insomma tassi davvero usurai e dunque a processo 5 persone a Battipaglia resta un caso per la vicenda legata alle cure dell'Alzheimer in chiesa Mirra attacca il consiglio a Montecorvino Ravella parentopoli sui rifiuti i fratelli d'Italia chiama la procura infine a Capaccio Pestum fiume se le è a rischio l'appello del comitato questi gli argomenti e i titoli proposti dalla pagina valianese non solo del mattino ora apriamo il capitolo sportivo parlando di calcio e di Napoli siamo alla vigilia di un nuovo turno di Champions League ma il Napoli ha bisogno dei gol di Milik Milik il mistero di un bomber smarrito l'attaccante fa fatica a ritrovarsi dopo un buon inizio di campionato quattro mesi nessuna rete in Champions con il Chievo altra deludente prova nelle gerarchie di Ancelotti il polacco è stato superato da Mertens Insigne invece è il punto fermo il Napoli non salta più mancano i gol di testa contro il Chievo gli azzurri hanno battuto 20 calci d'angolo ma nessun pericolo per Sorrentino anche un'altra nota statistica questa proposta quest'oggi dal mattino intanto il Napoli si prepara alla sfida Champions contro la Stella Rossa per gli azzurri importante una vittoria e chissà che non arrivino importanti notizie dalla sfida Liverpool PSG per festeggiare con un turno d'anticipo la qualificazione al prossimo turno di Champions League restando sul Napoli Champions Napoli dopo City e Juventus lo dice Costa Curta che è fiducioso dice il pareggio col Chievo nessun contraccolpo Ancelotti sa come motivare la squadra se passa il turno può andare avanti l'ex difensore del Milan dice il campionato i bianconeri sono troppo forti hanno già mezzo scudetto in tasca tra le altre squadre italiane impegnate in Champions c'è la Roma Kolarov sfida i tifosi della Roma di calcio capite poco statere i giallorossi ospitano il Real di Francesco rischia la banchina alla Juve basta il pari invece con il Valencia per festeggiare appunto il passaggio del turno questa la pagina sportiva dedicata al Napoli Napoli che centra di fatto anche su quelle che possono essere le possibili decisioni della FIGC in merito ai cori infatti secondo il presidente degli arbitri bisogna dare un pugno avere un pugno duro contro i cori dopo gli insulti razzisti contro Napoli a Udine e Torino Nicchia e Rizzoli assicurano le partite saranno fermate la FIGC sollecita l'applicazione rigorosa della norma curva della Juventus a rischio chiusura per il match contro l'Inter in taglio basso leggiamo il Consiglio federale vuole inasprire le pene in caso di aggressione agli arbitri da parte di Tesserati questa è un'altra piaga del calcio moderno poi ancora il racconto di Gianluca Viali il match più difficile ho avuto un tumore l'ex campione di San Pejuve ora sto bene ma non ho certezza di come finirà un'altra dunque vicenda questa legata al mondo del calcio calcio che interessa anche la Salernitana la Salernitana che ha riposato e che ritornerà in campo ebbene dopo i risultati del fine settimana quello che è chiaro è che le prime classifiche non scappano la zona è possibile Salernitana ferma per il turno di riposo ma le avversarie non ne approfittano per il Granata una media da 1,67 punti a partita con un piccolo sprint davvero si può sognare in grande l'attuale classifica vede Granata addirittura a meno 5 dalla vetta occupata dal Palermo a meno 3 dal Pescara che sono le due che vanno direttamente in Serie A se oggi finisse il campionato c'è speranza c'è fiducia su quello che può essere il futuro del Granata e allora andiamo ad approfondire un po' la situazione in casa appunto dei Salernitani con Colantuono che sta appungendo Giallò in queste settimane mentre Di Gennaro è in rampa di lancio faccia a faccia tra il tecnico e il Gambiano su un ruolo in campo e condizione atletica il Playmaker è pronto a giocare al tombolato da mezzala con Akpah Akpro e Di Tacchio queste le possibili scelte di Colantuono lavoro alla Reggio oggi atteso l'ok definitivo da parte dell'Agenzia per le Universiadi si parte in ritardo Cittadella intanto in emergenza Finotto Out Scaglia e Drudi a rischio gli avversari del prossimo weekend dunque non vivono proprio momenti diciamo positivi dal punto di vista della infermeria questa era la pagina della Salernitana noi con lo sport chiudiamo questa edizione della Rassegna Stampa vi ricordo l'appuntamento con l'informazione il telegiornale delle 13 e 45 io intanto vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di giornata di giornata di giornata su